eccoci qua buonasera piccolini come va? il bello è che avevo avviato la diretta ma in realtà non l'avevo ancora avviata di conseguenza guardavo lo schermo e dicevo ma com'è stasera non c'è connessione e invece siccome c'è stato l'aggiornamento c'era un altro metodo insomma lasciamo stare come al mio solito faccio vedere quanto sono figa nella tema della tecnologia come state tutto a posto lo so che non vedevate l'ora lo so che mi stavate aspettando ciao samanta ciao prova prova troppo carino questo nick che ti sei presa prova prova ista ci vuole ci vuole cervello per arguziare un nick simile complimenti uno di questi giorni facciamo un gioco ragazzi a chi ha il nome profilo più figo certo dovrà partecipare chi c'era un po più strano però dai magari votiamo noi che abbiamo i nomi profili normali votiamo a qual è il più figo dei vostri strani va bene poi ci organizziamo dai allora tutto a posto come state mi sentite soprattutto rega cioè manco ho iniziato già mi fate le domande un attimo ripigliamoci un secondo io poi tra l'altro c'è una batosta che stavo leggendo un libro ho scoperto che è una trilogia quindi è finito pure male mi è rimasto sto amaro in bocca in questo momento e per venire a fare la diretta non sono potuta passare a leggere il successivo quindi fatemi riprende che mi hanno dato come una botta in testa ok mi sentite bene bene ci siamo dai inutile che vi dica che chi arriva in ritardo deve pagare con cinque like a cinque post del vigolo chi invece addirittura arriva quando è finita la diretta cinque like ai post del vigolo e cinque ai post del vigolo dell'altra pagina quella che abbiamo recuperato da poco vigolo delle news forum tutto chiaro chi non paga pegno non potrà essere presente alla prossima diretta perché lo blocco direttamente tanto lo vedo eh lo vedo attenzione a come vi comportate siete sotto scacco del vigolo sotto la mia supervisione personale che è lucia che fate vi conoscete tra di voi e parlate certo smercio di like ovvio ovvio smercio di like ragazzi vi devo far pagare io sto qua a soffrire a fare le dirette voi non state presenti però le pretendete le volete recuperare dopo e quindi dovete pagare tutti devono pagare pegno allora sì vi parlerò di giulio vi parlerò di giulio anche questa sera vi parlerò un po di tutto quindi attenzione mi sono molto preparata sappiatelo perché vi avevo confessato di non aver visto tutte le puntate del trono classico ok però questi due giorni siccome sono state in ferie le ho recuperate ora mi manca solamente l'ultimo pezzo di credo venerdì scorso se non sbaglio però penso di aver visto all'incirca quello che dovevo vedere per valutare per capire un po la situazione esatto è un lavoro non essere presente alla diretta hai ragione diventa un lavoro se non siete presenti dopo dovete andare a lavorare sul vigolo allora dicevamo ho recuperato queste puntate allora innanzitutto vi dico che è stata veramente una fatica che neanche potete immaginare cioè veramente mi sono messa la suite avete tutte queste puntate a parte le pubblicità ogni tanto che sfrecciavano a destra e manca vabbè quello ormai si sa e tra diciamo una mezza dormita ad un'altra sono riuscita a riprendermi e alla fine ce l'ho fatta ce l'ho fatta e le ho viste tutte ok però partendo dal presupposto che me so annoiata tanto ho notato solo una cosa che gli unici momenti in cui non mi annoiavo era quando c'era giovanna non l'avevo inquadrata benissimo giovanna fino ad ora perché l'avevo vista forse nella prima esterna che aveva fatto poi comunque io trascrivo le anticipazioni che arrivano e diciamo che quelle sono sempre abbastanza delle anche opinioni un po personali di chi cioè si ti descrivono quello che sta avvenendo in studio però poi viene raccontato da un occhio che magari giovanna non lo vede così non l'avevo un occhio che non vede giovanna così dinamica non lo so non interessante eccetera grazie fabbi e quindi io scrivo ma non so realmente quello che avviene no devo scrivere quello che mi viene raccontato invece devo dire che recuperando le giornate le sì le giornate anche le giornate ragazzi con quelle puntate ho trovato una ragazza dinamica una che sa parlare credetemi che in quel contesto saper parlare non è così scontato e tra l'altro è pure romana quindi voglio dire ragazzi anche il campanilismo vuole la sua parte da parte mia ovviamente mi sono collegata da poco adriana tranquilla e quindi devo dire che ho trovato gli unici pezzi che ho trovato interessante di questo trono classico sono i pezzi dove c'è giovanna che poi tra l'altro ho sempre sentito dire ah beh non è questa gran bellezza eccetera cioè io l'ho vista bene giovanna a parte gli occhi stupendi io adoro gli occhi chiari ma poi mi sa che è alta un metro e settantacinque non lo so forse quasi pure un ottanta perché comunque c'è un bel fisico si vede che è una donnona una donnona nel senso proprio in altezza perché poi è magra magra c'è un suo modo di vestire a me non fa impazzire però comunque è un suo modo non è omologata al resto delle ragazze che ci sono là quindi non so mi ha colpito devo dire la verità e quindi grazie a lei mi sono un pochino interessata a questo trono di giulio allora che vi devo dire innanzitutto non siamo gli unici a trovare questi troni noiosi perché una cosa che ho notato non so se l'avevate notato anche voi è che quando entrano i tronisti ci sono gli urletti delle ragazze del pubblico no se ci avete fatto caso quest'anno sono urletti tiepidi cioè due tre urletti così giusto per far vedere insomma uno è contento che che sta là però non c'è più quella voglia di urlare al tronista quando si vede quindi già là ok allora ho notato ma questo l'avrete notato anche voi un giulietto un po rosicone diciamo che giulio quando non riesce ad ottenere subito quello che vuole come si dice a roma va un po in puzza ok va un po in puzza che significa appunto che è un rosicone perché lui vuole ottenere tutto e subito non riesce a a competere con un e poi è strana questa cosa perché cioè lui è un giocatore di basket quindi dovrebbe essere abituato a giocare competere eccetera invece si vede proprio che soffre la competizione giulio cioè vuole tutto e subito le vuole tutte ai suoi piedi vuole essere al centro dell'attenzione dello studio delle ragazze anche il tronista più considerato eccetera quindi giulietto sta facendo un pochino il rosicone ok ora quello che voglio dire io è che che vi posso dire ho visto che gli piace comunque giovanna cioè piace il carattere di giovane piace che lei non si fa mettere i piedi in testa dopo vi parlerò anche di zarino facciamo un argomento per volta tranquilli che arrivo pure a lui le piace il fatto che non so per esempio la battuta che fa giovanna no quando quella ragazza gli dice ciao giovanna vola basso cerca di volare basso e invece giovanna gli risponde no perché io volo alto invece quindi quella è una battuta che giulietto lì vediamo subito che se la ride sotto i baffi perché in quel caso lei è un pochino arrogantina come lo ha lui anche se lei lo ha lo è in un modo un po' più geniale rispetto a lui no? ora io vorrei soffermarmi sul fatto anche che giulio abbia comprato ste scarpe a giulia ora io non non voglio dire che giulio se l'è portata da casa io non so se questa ragazza la conoscesse veramente già da prima e sinceramente io questo non lo so ragazzi non voglio metterci manco tanto bocca qualcosa di strano in questo trono di giulio c'è ma partirei dal fatto che più che altro da quella storia di veronica quella di tentation island che si è vista con l'amico di giulio a cena si ok era una un caso come dicono loro quello che volete però secondo me qualcosa lì c'è stato nel senso io spingo un po' te non ti preoccupare vediamo come fare eccetera però io non lo so se l'è portata da casa se l'è portata da formentera non lo so fatto sta che è un po' strano vedere tutta questa confidenza tra loro già alla prima esterna che per carità il contesto quello che vuoi però insomma è la prima esterna tu a quanto pare non sei mai stata in televisione da quello che ho capito da quello che lei ha dichiarato però c'è tutta sta grande confidenza tra loro ma quello che mi sconvolge di più poi non è manco la confidenza quanto il fatto che te ha una che non hai mai visto che la prima volta con cui parli ti dice che ha problemi economici per lo meno poi invece non era quello ma era solo che non vuole sprecare i soldi per comprarsi un paio di scarpe eccetera tu che fai e compri le scarpe a via del corso scarpe che costano sulle 400 3 400 euro ok ora io dico no ma secondo voi è normale cioè è normale io vengo un'esterna con te piango un pochetto e tu mi fai il regalo cavolo volevo dire a Giulia che allora ha sbagliato tutto invece di chiedere un paio di scarpe io poteva chiedere che ne so un solitario ho sempre sognato quel bel solitario ma io nessuno mi ha mai voluta fino a oggi nessuno ha voluto per me una storia d'amore vera nessun uomo mi ha mai preso sul serio e lui zac gli avrebbe comprato il solitario quindi Giulia mia fatte di che la richiesta non è stata delle migliori la potevi diciamo sognare un pochino più in grande no tanto da quello che si è capito lui avrebbe comprato qualsiasi cosa la potesse fare felice perciò insomma sinceramente è una storia un po' strana questa delle scarpe perché per carità è anche successo in passato che un corteggiatore comprasse le scarpe a una corteggiatrice un tronista un vestito quello che volete ma qui stiamo alla prima esterna prima esterna e gli compri una cosa che veramente roba che il tuo fidanzato non ti compra manco dopo dieci anni di fidanzamento quindi boh qualcosa di strano in tutta questa faccenda ragazzi c'è a meno che non ci sia già lo zampino della redazione che ha cacciato sti 400 euro per movimentare un po' il trono e quindi gli hanno preso ste scarpe che poi io sinceramente con la mia dignità per quanto per carità di dio potessi volere potessi desiderare anelare a un qualcosa di così bello da quando sono nata non avrei mai accettato perché ma che cavolo sei cioè te vedo pa seconda volta e accetto i tuoi regali ma mica stiamo a pretty woman qua eh stiamo facendo uomini e donne oppure non lo so cara redazione cambiamo il titolo del format non lo so però mi sembra un pochino esagerato di conseguenza mi sembra più una cosa di che ha voluto organizzare magari redazione per smuovere un po' questo trono che faceva un pochino acqua da tutte le parti vabbè insomma quello che anche volevo farvi notare è che ultimamente va di moda il fatto che si può dire che siccome sono sincero posso dire quello che mi pare ultimamente questa è la moda del momento dei social della televisione eccetera come lui quando dice io con te ho provato quello che con giovanna e direne non avevo provato in tre esterne giovanna gli dice senti bello ma dov'hai cioè ti rendi conto di quello che mi stai dicendo eh che è comunque svilente non è una bella cosa e lui ma sono sincero e allora se non volevi che fossi sincero se non vuoi una persona sincera la vuoi una persona sincera oppure no cioè la vuoi una persona sincera sì la voglio una persona sincera ma come giustamente dice giovanna c'è modo e modo di dire le cose ma che modi so cioè come fai a dire una cosa del genere una appena arrivata non sai manco che c'ha nella capoccia se c'ha la segatura se c'ha una nocciolina o se c'ha un cervello però subito parti in quarta qualcosa non va sei un uomo di 30 anni devi avere anche la testa per poter valutare chi hai davanti quindi questo mi fa pensare che anche giulio stia molto giocando stia tirando fuori una strategia volesse un attimo smuovere il suo trono e quindi sta facendo tutto questo per questo motivo qua ok detto questo detto questo e riassumendo perché appena è entrato ricordatevi pagare impegno eh dico che l'unica degna secondo me di questo trono è giovanna giovanna anche solo per il fatto che sa parlare che ripeto viene tanto poco considerato cioè non viene le persone non pensano che sia un pregio mentre in realtà credetemi saper parlare soprattutto in quel contesto è un grandissimo pregio perciò io al momento tifo per giovanna anche se continuo a dire che il trono di giulio è quanto meno strano ok è quanto meno strano per quanto possano essere noiosi questi troni forse al momento grazie a giovanna quello di giulio è il meno noioso detto questo parliamo di veronica potevo mai non parlarvi di veronica ragazzi allora innanzitutto io ho dovuto trascrivere la sua intervista e non so se l'avete letta eccola qua l'abbiamo messa giovedì quando è uscito il magazine perché si dice magazine magazine di uomini e donne questa benedetta intervista che poi ha veramente il senso di non lo so una formica in mezzo a tante cicale perché mi fai un'intervista che non vale una ceppa perché sappiamo tutti poi dalle anticipazioni che ormai lei se ne è andata sul trono però rileggendola un secondo questa intervista mi ha fatto veramente pensare mi ha fatto pensare perché in realtà lei è di un'incoerenza ma di un'incoerenza assurda tanto che io non riesco a capire tutte quelle persone che in questo momento la stiano difendendo perché mai ero la prima a dire che comunque mi era simpatica veronica cioè lo sapete le piacciatrici seriali sui social hanno la mia più grande simpatia ok quindi mi stava pure simpatica ma cavolo come te sei comportata come fai a essere simpatica cioè voglio dire questa praticamente le fanno l'intervista subito dopo il bacio ad alessandro che poi guarda caso proprio mi sembra la settimana dopo del bacio lui sceglie e lei lo molla ok in questa beneditta intervista lei dice delle cose strane dice innanzitutto qua guardate eh ora vi faccio vedere gli dicono allora se lui in questo momento ti dovesse scegliere tu cosa faresti vedete al pensiero di averlo tutto per me sorrido ma forse intendeva di che se stava a fare due risate perché o stava a prendere in giro quindi ironicamente sorrideva poi considerando che continuerei a conoscere alessandro nel programma perché non dovrei desiderare di farlo fuori ecco forse intendeva dire non di farlo anche fuori ma di farlo fuori perché poi quello che è successo l'ha fatto fuori l'ha cacciato e dice quindi sì la risposta è sì mi metterei lì al centro dello studio perfetto ragazzi ci aveva detto chiaramente che lo voleva far fuori e che se sarebbe seduta al centro dello studio ma non ha detto però gli dico sì ha detto mi siedo al centro dello studio cioè più chiara di questo che cosa dove cosa mi era andato in pausa la diretta vediamo se torna ok sì credo che sia tornata non so perché sia andata in pausa perché veramente quando sente mi sa instagram parlare di veronica diventa pazzo anche lui poveretto allora quando dice che non deve tirare troppo la corda perché non sono una che ragiona molto su queste cose anzi seguo l'istinto e la pancia ora siamo in ballo e quindi balliamo sa può succedere di tutto sono passionale e imprevedibile non sono così facile come potrebbe sembrare e qua praticamente gli ha detto ferma perché comunque io sono una passionale quindi un uomo solo non mi basta perciò se maria mi chiede da andare sul trono io ci vado così posso decidere tra tanti perciò questa già ci aveva detto quello che voleva fare ragazzi siamo noi che non abbiamo letto attentamente che abbiamo pensato che potesse essere una ragazza di 21 anni mi sembra c'ha 21 anni no quanti anni c'ha una ragazza giovane che veramente era andata lì a farsi un'esperienza che si era trovata l'uomo della sua vita che addirittura pensa pure ad andare a far surf in australia e invece poi maria gli ha detto fermate un attimo veronica ma perché ti devi accontentare di un solo uomo in australia quando ne puoi avere 20 ai tuoi piedi e andare a vivere dove vuoi e magari con qualche soldarello di più quindi lei ha preso giustamente si è fatta i cavoli suoi e se n'è andata sul trono ma chi può biasimarla per questo nessuno d'altronde ci aveva già avvisato nell'intervista ora quello che non mi è molto chiaro è perché abbiano voluto far fuori sto poveretto perché sto poveretto non voleva scegliere ok poi arriva lei che lo mette al tappeto non so come abbia fatto per un semplice bacio che poi voglio dire cioè ragazza mia ok ti ha baciato poi in più per tutta la settimana ti ha fatto dei regali cosa che nessun tronista credo abbia mai fatto per le sue corteggiatrici e t'ha fatto capire che t'ha pensato tutta la settimana tu arrivi in studio pretendi che ti scelga e una volta che lo porti alla scelta prendi e gli emolli il no e poi giustamente siccome maria è una vincente che cosa fa premia la persona che tratta da schifo il prossimo mi sembra corretto siamo in linea con quello che di solito fa la redazione il motivo per cui abbiano voluto fare tutta sta tiritera credo che sia in un qualcosa che probabilmente non sapremo mai perché Alessandro non ci dirà mai quali sono i veri motivi di tutto quello che è successo no però secondo me sono insiti nel fatto che lui forse non era così malleabile come potrebbero essere altri o come potrebbero come potrebbero esserlo stati altri ragazzi cioè uno che magari agisce per conto suo non vuole sentire magari troppi consigli e dice no sentimo faccio così e basta magari più impulsivo di quanto pensiamo quindi non essendo così malleabile questi hanno preso io non dico che hanno detto quello che doveva fare ma l'hanno un po spinto a chiudere questa esperienza perché a loro probabilmente non stava portando niente di buono e se lo volevano togliere dalle palle ok poi non lo so certo è che mi sembra molto strano che da tutte quelle grandi parole che avevano avuto su di lui Claudio che era lui che l'aveva scelto non so se vi ricordate avevamo fatto anche un articolo al riguardo dove diceva che era un ragazzo stupendo che quando gli hanno fatto il provino sentì hanno sentito la sua vita hanno subito deciso che era un ragazzo che doveva avere un'opportunità nella vita soprattutto per quello che aveva passato eccetera all'improvviso quanto ha fatto questo un mese e mezzo detrono quanto ha fatto un mese e mezzo pia e fanno in modo di cacciarlo perché ricordiamoci sempre questo la decisione sarà stata sua di scegliere ma redazione maria quando vogliono mettono un freno e lo abbiamo visto tante volte il motivo per cui non hanno messo un freno rimarrà un mistero rimarrà un mistero anche se poi le illazioni che possiamo fare sono tante quindi devo dire che sono molto dispiaciuta sono molto dispiaciuta per lui anche se ovviamente ve l'ho sempre detto era moscio lo sapete lo sappiamo tutti che era moscio però era un ragazzo educato non dava fastidio a nessuno non so l'avrei fatto uscire di scena un po meglio che così perché così è stato veramente brutto è come quando ti licenziano e poi non ti vogliono da il sussidio di disoccupazione per due anni calcino il culo e vai almeno lascia il sussidio per poter campare nei prossimi mesi e invece questo niente non gli hanno dato niente in fondo un pochino aveva fatto io non so veramente cosa può essere successo però non è l'unico che annoiava cioè non è che l'unico dronisto che ha annoiato a uomini e donne però è uno dei pochi che è stato trattato da schifo in più io dico ma se tu a sto ragazzo gli vuoi bene ok ha voluto fare di testa sua ha voluto scegliere se ne ha voluto andare perfetto però tu poi che fai siccome gli vuoi tanto bene gli infliggi anche la punizione di mettere lei che ha detto no sul trono cioè ragazzi dai io quello trovo assurdo veramente cioè come se gli avessero avessero sparato sulla croce rossa in quel momento questo già ha preso il no e poi fai pure vedere che quella lì che l'ha usato che si è fatta ai cavoli so che l'ha fatto fuori giustamente se ne va sul trono ma peggio di così secondo me per lui non poteva andare e quindi niente per carità ora con questo non dico che ci mancherà perché sto grande trono non l'ha fatto ma non è che quelli che sono arrivati adesso chissà che cosa stanno facendo poi vediamo insomma vediamo come carlo e come veronica stessa riusciranno a tirare su le sorti di di questa edizione orribile lasciatemelo dire e che le fan di giulio cerchino di comprendermi in questo però sinceramente l'edizione che stanno facendo è veramente brutta ma veramente brutta è che poi sono incappata nel vedere anche la discussione di veronica con alessandro la volta dopo che avevano litigato perché lei aveva scelto lui ma lui poi non l'ha portata in esterna perché non non ha visto sincerità da parte di lei né scegliere lui cioè sembrava una pesce vendola in quel momento io non l'avevo mai vista ma oggi vedendo la puntata sono rimasta allibita una bella ragazza così perché è una gran bella ragazza veronica diciamocelo poi una del nord quindi ti aspetti sempre un tantino più di signorilità perché noi che siamo centro sud siamo sempre additati come quelli più cacciaroni quelli un po meno eleganti no invece diciamo che ne so da firenze in su sono eleganti sono un po siamo tutto me tutto meno e questa è del nord e e pesci vendola peggio di chi è del sud senza offesa perché del sud perché mi ci metto anch'io che sono di roma cioè cercate di capire il discorso che sto facendo se no domani mi ritrovo qualche critica dove io sono andata a parlare male di quelli del sud cioè intendiamo il discorso che sto facendo è ok quindi voglio dire si critica tanto giulia che perché è romana e parla come lasciamo perdere ciao sciazzi tanto è vero che stavo vedendo le puntate mio marito stava qua vicino a un certo punto mi fa ma come parla questa e tutto bene davide dai è romana parla da romana no no pure noi siamo romani ma mica siamo così pesci vendolini quindi per dire si parla tanto della povera giulia che si dà così diciamo al al dialetto ma non è che veronica in quel momento sia stata meglio ok parliamo di giulia perché voglio parlare anche di giulia ok allora è vero che si dà proprio cioè come se stesse a casa sua no quando parla anche io sono romana a volte anche a me viene di parlare così soprattutto quando mi arrabbio magari sto litigando con qualcuno però insomma lei proprio come fosse a casa sua battute un po questa parlata che si trascina e va bene però devo dire che tra i tutti almeno lei è verace ma a prescindere da come parla che può dare fastidio come no daniele è uguale a lei eh quindi oggi me lo sono spizzato bene pure lui e daniele non è che sia molto molto diverso da lei come parla no però almeno è sincera almeno si vede che c'ha un vero interesse per i suoi corteggiatori poi che puretta pure lei ha dei grossi problemi con chi la corteggia quello è un altro discorso però voglio dire è arrivata una ragazza verace che crede in questo momento almeno nel programma che si sta comportando bene a meno che mo domani esce fuori chissà che no però insomma voglio dire si vede che che non fa casini che non se li se non se li è portati da casa insomma ci crede a questa cosa e credo che si sia pure presa una bella cotta per daniele per una volta che arriva che non è bellissima ok poi c'è un bel fisichetto non è bellissima ma va bene la volevamo cioè avevamo detto basta stangone basta modelle metteteci gente un po più normale a uomini e donne finalmente hanno messo una ragazza normale cerchiamo di apprezzarla dai cioè trovo corretto questa cosa quindi soprattutto perché almeno lei sembra una persona che veramente sta lì per cercare un ragazzo vi voglio dire un'altra cosa ora considerato che daniele non è che mi faccia impazzire nonostante sia romano sapete che io ho un debole per i romani no ma insomma non è alessio parliamoci chiaro mi piaceva molto di più alessio perché anche nella sua romanità era molto più fine rispetto a daniele daniele un po più come dire ombroso ok alessio era una carta scoperta daniele non molto però insomma io non lo vedo così falso come lo vedete voi io ho visto i suoi occhi nelle sterne con giulia a me sembrava che gli piacesse veramente giulia secondo me gli piace anche perché insomma pure lui è carino ma non è che mua sto grandadone quindi starebbero pure bene perciò io non lo vedo non lo vedo disinteressato sono sincera come non vedo disinteressata alessandro però alessandro c'ha c'ha un problema secondo me è bellissimo anche se non è il mio tipo però non posso dire che sia bello non posso dire che non sia bello però non c'ha carisma ragazzi c'è sembra un pesce lesso ora per carità a voi piacerà perché è un ragazzo educato indubbiamente non urla non si mette a gridare come se stessa al mercato però ragazzi quando manca il carisma puoi essere figo quanto ti pare ma cioè è moscio pure lui parliamoci chiaro io non mi piace non mi piace mi dispiace tanto perché so che piace molto a voi e tra l'altro voglio dire secondo me pure un mezzo fessacchiotto però parliamoci chiaro una lavatrice con lui proprio non ce la farei non mi dice proprio non mi piace l'odore del suo detersivo ecco mettiamola così questa è la classica cosa che si dice di quando c'hai un bello che non balla ma non balla nel senso che non me prende un po' come non me prendeva manco oh ma sarà un po' per nome io non lo so ma pure zarino alessandro a me sto sangue non me lo faceva e quindi bello quanto volete ma insomma non mi piace tutto qua mi dispiace c'ho un po' una personalità da da spigola ecco non voglio dire da come si chiama quell'altro pesce che ora non mi viene me la da sogliola ok mi è venuto in mente non voglio dire sogliola ma dico spigola perché la spigola comunque è saporita però sempre in pescetto rimane perciò mi dispiace ma insomma non mi sembra che Giulia sia stata così tanto fortunata ok se proprio dovessi scegliere tra i due probabilmente sceglierei Daniele ma semplicemente perché lo vedo un po' più misterioso poi magari non c'ha niente da offrire cioè io non sceglierei nell'uno nell'altro parliamoci chiaro questa tornata non mi offre geni per i miei ormoni purtroppo però insomma che vedevo di ragazzi credo che sia stata un po' sfortunata però l'importante è che piacciono a lei ok non vedo bene nessuno per le lavatrici in questa tornata cioè non vedo bene negli uomini non mi piace nessuno diciamo che tra tutti se proprio fossi costretta a scegliere probabilmente sceglierei Giulio con tutta la sua arroganza con tutto il suo modo di fare eccetera è quello che quando bacia mi ispira di più poi mi sono vista pure i baci che si è dato con Giovanna e baci con Irene insomma si vede che è uno che piace proprio baciare e ripeto perché questa cosa ve l'ho già detta non a tutti gli uomini piace baciare eh cioè a tutti gli uomini piace fare la lavatrice ma baciare no baciare è una cosa che non è proprio tra le preferite di un uomo perché è una cosa romantica perché comunque agli uomini piace andare subito al sodo certo è anche vero che lì c'è poco da andare al sodo no però voglio dire se proprio dovessi scegliere è l'unico che mi ispira un'anticchia di più rispetto agli altri ecco però non c'è il mio uomo ideale quest'anno infatti non lo sto vedendo così assiduamente cerco di recuperare per fare le dirette con voi però insomma non lo so è meglio il throne over ragazzi il throne over non so se avete letto quello che abbiamo scritto ieri sera credo che sia ancora nelle storie l'articolo ma cavolo la storia di Moreno la storia di Moreno che fa cilecca vi scongiuro se non l'avete letta andatevela a leggere perché sicuramente se ne parlerà perché figuriamoci se Maria si fa sfuggire la cosa però ragazzi lì la nostra talpina ce l'ha proprio descritta in maniera dettagliata ho riso come una panza io a scrivere tutto anzi voglio ringraziare la talpina perché è stata veramente bravissima ma cioè c'è da ride dall'inizio alla fine Moreno è uno del throne over cioè andatevi a leggere questa vediamo se la trovo ve la faccio anche vedere questa notizia se non l'avete letta vi scongiuro dovete proprio correre a leggerla pure se non seguite l'over vi dovete assolutamente leggere questo articolo eccolo qua guardate è questo vi svegliamo quello che probabilmente verrà tagliato durante la messa in onda ok ragazze vi scongiuro se non l'avete fatto andate se volete farvi una risata perché è esilarante quello che che ha combinato questo Moreno e quello che sono riusciti a dire della notte che ha passato insieme ad una dama che è australiana e quindi non avendo una mentalità italiana che è un po' regretta come la nostra si è data da fare nel descrivere i particolari di questa notte movimentata quindi quindi viva il throne over poi non mi venite a dire perché il throne over va tre giorni mentre il classico va due giorni cioè non c'è proprio non c'è paragone anche per chi ama di più il classico non ha mai seguito l'over secondo me quest'anno dovrebbe un attimo iniziare perché c'è molta carne al fuoco molto trash cose che ti fanno veramente stare con la bocca aperta cioè se volete passare un'ora a ridere e spensierati guardatevelo perché vi conviene veramente vi conviene lo dico anche contro i miei interessi tra l'altro sono più quelli che al momento ci chiedono del throne over che del throne classico e voglio anche dire basta per cortesia mandare direct nel chiedere quando registrano quando arrivano le anticipazioni ragazzi quando ce l'abbiamo lo sapete è il nostro compito darvele il prima possibile è il nostro compito trovare qualcuno che ce le dia quindi tranquille che ve le diamo parlo delle anticipazioni ovviamente eh non pensate male non pensate male va bene insomma penso di di aver sviscerato un po' tutto quello che c'era da sviscerare su uomini e donne ah una cosa vi volevo chiedere non so se ci avete fatto caso ma Daniele al dente all'incisivo destro ma che c'ha io io vedo sempre una cosa nera cioè che sarà un buchetto non lo so ve lo siete chiesto sono l'unica che si chiede una cosa del genere che ci ha fatto caso ci avete fatto caso voi non lo so ditemi qualcosa vi scongiuro avete una risposta a questa domanda che mi sta tormentando da praticamente tutto il tempo che sto recuperando queste benedette puntate io non riesco a capire che c'è sto dente voi ve lo siete chiesto ditemi qualcosa se lo sapete no cariato no ragazzi dai impossibile ci ho pensato anch'io però cariato assolutamente dubito che un ragazzo così curato che va insomma ha tutti gli addominali bene ben scolpiti possa venire con un dente cariato un pezzo di insalata è bellissima hai vinto tutto rinti sì credo che abbia un buchetto dai credo che sia un buchetto altrimenti se lo sarebbe fatto sistemare dai vuole cari e su pure voi come siete esagerati e ya e ya va bene allora passiamo ad altro passiamo ad altro volevo chiedervi se avete letto quello che ha detto Alessandro Greco nell'intervista non so se l'avete letta lui con la moglie la Bocci Beatrice Bocci praticamente vi volevo dire non so se l'avete letto però non andate a Meggiugori se non volete andare in astinenza da lavatrici perché quanto pare è un luogo che ti manda in astinenza per ben tre anni ragazzi ora io per carità non voglio assolutamente giudicare le persone credenti le persone che vogliono decidono di fare un percorso per fede quello che volete ma cavolo ma un uomo ma come fa per tre anni dormendo poi vicino alla propria donna a rimanere casto cioè c'ha dei problemi sto uomo loro mi vogliono dire che è stato Meggiugori che la spiritualità che hanno non so hanno di punto in bianco adottato nella loro vita sono riusciti a spingere ma no qui c'era qualche problema di fondo ve lo dico qui c'era proprio bisogno altro che Meggiugori e il Papa e i frati e tutto il cucuzzaro ma di un bel uno di quei psicologi che diciamo sistemano le malattie no le malattie le paure ecco chiamiamole così le fobie sessuali perché cioè regà io non non ci credo ma poi voglio dire lui c'ha pure una certa età adesso no mi sembra che stia sui 50 se non sbaglio no ora non voglio di niente ma insomma non è che fino a chissà quanto riuscirai a fare grandi centrifughe sfrutta l'ultimi anni da vita tua non puoi di che te ne vai in astinenza proprio negli ultimi anni che poi dopo figlio mio manco te ripichi più quindi vuol dire che ci stai proprio a mettere una croce sopra e stai appendere il cappello al chiodo chiamiamolo cappello quindi boh io non lo so io quando leggo queste cose sinceramente rimango sbalordita sarà che sto un po' ninfomane boh non lo so mi piace leggere i libri mi piace sfogare le mie fantasie quelle belle non pensate male però insomma ma io posso leggere una cosa del genere dai ragazzi ma come si fa ma io non ci posso credere ma io che dico sempre che è importante questa cosa nei rapporti a due perché non è che è solo vieni a casa ciao amore ho fatto la cena ho fatto il pranzo andiamoci a fare una passeggiata cioè ragazzi si dorme anche insieme si deve dormire insieme ci deve essere quello che ci differia quello che differenzia un una sorella da un fratello a un uomo e una donna che si amano che so fidanzati che so sposati che so accompagnati quello che volete è quello parliamoci chiaro è il sesso se non c'è quello siete fratelle e sorelle allora a quel punto ma che te sposi a fa rimani a casa con mamma e papà così non gli manco spicciarla va a cucina io non so se credere a queste cose non so manco perché chi lo fa le debba raccontare in questo modo perché per me è assurdo sono discorsi assurdi ma veramente assurdi perché non lo so comunque non entriamo nel dettaglio altrimenti potrei dire cose che è meglio che io non dica lo dire a mio marito mio marito è presente lo sa ma non ho questi problemi te lo assicuro anche perché non credo che lui mi chiederebbe mai una cosa del genere tra l'altro mi ha sempre detto diciamo lascia verde se per caso qualche giorno ti viene voglia ad andare a una di queste mete spirituali che ne è cosa lui poi è ateo quindi figuriamoci e poi ma chi ce va che stiamo a scherzare io dico nella vita ci stanno poche cose belle se poi ci mettiamo noi a togliercele da davanti siamo dei pazzi ragazzi Donatella non ho detto che a 50 anni non funziona ma sia mai sto solo dicendo che a 50 anni non c'è più 20 anni quindi c'è meno anni davanti che funzioni no quindi sfruttali alla grande finché è possibile ora io ringraziando il signore ancora non so quando queste cose non funzioneranno più ma mi auguro il più tardi possibile però voglio dire se c'hai 20 anni due anni d'astinenza anche se magari te pesa non li puoi fare tanto poi ce ne hai altri 70 davanti da lavorare ma cavolo c'ha già 50 è un pochino si va perdendo parlo del desiderio che non è più quello che di quando c'hai 20 anni ma credo che sia fisiologico a meno che non sei malato non sto dicendo che non funziona quindi attenzione tranquilli però voglio dire ovviamente a 20 è in una cosa 50 in altra 70 80 tra l'altro stavo a leggere un libro l'altro giorno questa ve la devo dire che sono rimasta svalordita non erano però diciamo i protagonisti principali andavano a intervistare una coppia di 90 anni ovviamente è un film però io credo che funzioni proprio così e niente mentre parlavano quello gli fa giovanotto gli fa al protagonista che era quello che lo stava intervistando in questo libro giovanotto io ho 92 anni ma guarda che io e lei facciamo ancora sesso perché mi funziona molto bene ho riso da qua fino a a che non ho finito il libro giuro quindi per carità di dio ma anche fino a 100 io sono una promotrice di queste cose però voglio dire non possiamo rinunciare a queste cose dai allora detto questo detto ste cavolate ma lo sapete che tanto poi vado sempre a dire qualche cavolata ma per alleggerire le cose ovviamente che nessuno soffenda anzi anzi cosa devo dire su Daniele e Martina l'avete letto il libro after leggete il libro after continuerò a dirvelo all'infinito tra l'altro ho letto un altro libro che sembrava la storia di Martina e Daniele ora che vi devo dire io non lo so se è finita ma sti due sono strani sti due sono strani non lo so lei la vedo piccola per poter reggere un carattere come quello di Daniele e Daniele è troppo problematico ma veramente troppo problematico cioè pure lui non so sembra che ha 20 anni 18 15 anzi che ancora deve capire come va la vita come vanno trattate le donne eccetera è anche vero che lui magari è uno scherzoso fa la battuta e lei niente lei non c'è ironia sta ragazza aiutatela qualcuno l'aiuti non lo so io non lo so sinceramente non so che dirvi forse non è proprio chiusa 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 conoscendo i due soggetti però non è un rapporto sano parliamoci chiaro quindi se io fossi fan di una di due mi augurerei che fosse che sia arrivata la fine perché cioè non si può andare avanti così e non si possono mandare avanti così dei rapporti soprattutto a 20 anni ok e secondo me lei dovrebbe pure imparare un po' però a essere più leggera un pochino più ironica ecco perché ripeto secondo me l'ironia e l'autoironia sono il sale della vita sempre della vita e anche dei rapporti ok mi chiedete di dire Riccardo oddio rega io io non i sopporto più voi dico siete tantissimi che li amate so più i direct che riceviamo dove ci chiedete di Ida e Riccardo che di tutto quello che sta intorno a uomini e donne sinceramente io non lo so come facciate a sopportarli perché io non li sopporto più già solo a scrivere quello che fanno durante le anticipazioni giuro non li sopporto più basta Ida è di una pesantezza allucinante una donna così bella che ha tutte queste insicurezze io non la io non la comprendo non la comprendo cioè è bella mia Ida sei una bella donna te vuole bene se non te vuole calcia un culo trovatene un altro è vero che poi come la ponciano uomini e donne per carità di Dio però insomma quando la vedo nelle storie che fa le sue sponsorizzazioni la vedo molto carina però è troppo pesante cioè alleggerisci questa è un'altra è un'altra che se gli fai una battuta non la capisce non la capisce perché non ce l'ha l'ironia questa donna quindi lui gli fa la battuta poi lui lo sa che cavolo gliela fai a fare lei si offende perché non capisce le battute ma si due come fanno ad andare d'accordo secondo voi dai su ragazzi io non so come facciate a scipparli ma comprendo anche lei che poverina insomma vuole fare la lavatrice perché giustamente vuole fare la lavatrice poi lui parliamoci chiaro si è rimesso ben in sesso fisicamente avete visto mica era così quando è andato a Tentation Island se è dato sotto coi pesi c'è una bella tartaruga quindi credo che lei lo vede e fa oh bello mio via qua che moltemagno quello non volesse magnato per niente eppure questo è grave perché insomma un uomo di 40 anni che non c'ha questa esigenza non sente questa esigenza ovvio che poi lei si sente insicura quindi o lui si smolla un attimo e glielo dà oppure cioè basta chiudi e piete uno che te lo dà visto che ce n'hai bisogno a quanto pare come ne abbiamo bisogno tutti intendiamoci anche su questo poi dite che io torno a parlare sempre di stessi argomenti ma se si gira sempre là che dobbiamo fare è colpa mia? non lo so allora volevo parlare però anche di Irene siccome l'ho fatta io tra l'altro mi sono dovuta sorbire un'ora di intervista non si sa le pubblicità e le canzoni che nel mezzo hanno dato di lei ospita Radio Radio anzi saluto Giada che comunque è bravissima carinissima e tutto ora io non ho ben compreso il senso di quell'intervista perché Giada spingeva talmente a farle dire che comunque lei aspetta Luigi ci spera ancora lo ama ancora è stato un grandissimo amore quindi mi viene da pensare che Irene forse dietro le quinte a microfoni spenti le abbia detto che c'è ancora qualcosa in ballo tra di loro per come l'ha ho visto ho sentito questa intervista mi è sembrato come se ci fossero ancora dei spiragli aperti ok secondo me Luigi non sta con Sissi io credo che Sissi abbia una mezza parentela con sto locale dove vanno sempre a mangiare quindi Luigi fa pure un po' di pubblicità tra l'altro poi ci va a mangiare gratis quindi sono amici ma non credo che stiano insieme assolutamente no su questo ci potrei quasi mettere la mano sul fuoco non ce la metto ma quasi ce la potrei mettere e quello che non capisco è perché Irene ancora ancora speri perché io ripeto sono ripetitiva sono e sarò sempre ripetitiva quando due persone si lasciano per me l'amore non c'è perché se no le superi tanto più che quando Giada le fa la domanda ma se differenze caratteriali queste incompatibilità non si potevano risolvere lei fa sì e allora se si potevano risolvere perché vi siete lasciati questo non si è capito ok perché lei ci speri ancora forse perché lui non gli ha proprio chiuso la porta in faccia ma semplicemente perché noi gli ha detto non ti amo più ma gli ha detto ti amo ma è meglio che ci lasciamo io a un uomo che mi dice una cosa del genere non ci credo non ci avrei mai creduto e mai ci crederò perché se mi ami non mi lasci se ci amiamo non ci lasciamo ma soprattutto e qui sono ridondante lo so e potete dirmelo sono anche esacerbante quello che volete ragazzi però non ce vai affatto un viaggio di 20 giorni dall'altra parte del mondo senza la tua fidanzata fine non mi fate ripetere sempre le stesse cose ragazzi non mi fate ripetere ah poi ci si lascia per orgoglio non ci credo quando c'è l'amore l'orgoglio si mette da parte quindi non escludo che magari ci possa essere un piccolo ritornino di fiamma visto che lei la vedo così lanciata su questa cosa ma per me è una storia chiusa se anche ci dovesse essere per me è chiusa ripeto non ti vai a fare un viaggio di 20 giorni senza la donna che ami per me è assodata questa cosa poi magari per voi è giusto va benissimo c'è chi mi ha scritto pure a me mi è successo quando ero giovane e poi però ci siamo sposati e ci amiamo tanto perfetto benissimo a me non è mai successo e io ho un uomo che mi dice vado da solo si prende un calcio nel culo e ce lo mando direttamente gratis senza che prende l'aereo e se fa tutte quelle ore di volo direttamente io con un bel calcio poi c'è chi è disposto ad accettare queste cose va benissimo per me no e chi lo fa mi dispiace ripeto non c'è amore basta poi in Brasile ma dov'è ma a qualsiasi posto regà posso capire un weekendino dove fai con i tuoi amici in Europa te ne vai all'Octoberfest benissimo bacio per carità se ci tieni tanto non è che mi piaccia questa cosa preferisco fare le cose con l'uomo che amo tutte le cose che faccio io le faccio con il mio uomo perché mi piace condividere tutte le esperienze insieme ok però c'è chi c'ha bisogno di andare con gli amici e basta prego andate ve ne fate come mi pare ma due o tre giorni non te ne vai all'altro capo del mondo a vivere esperienze stupende e le esperienze stupende vanno condivise con la persona che ami e che ti sta al fianco senza questa senza la persona che ami tanto è stato ma poi cioè io Irene non capisco è stato un grandissimo grandissimo amore oh è stato talmente grande che si è durato i sei mesi manco sette perché poi tra che si sono è partito tra che si sono lasciati tra che avevano discusso prima tutte le discussioni avute riprese eccetera per me adesso ho sei sei mesi e un grande amore cavolo e io che sto con mio marito da tredici anni allora un amore supersonico cavolo ho bisogno di amore mi devi fare un regalone tredici anni che te sopporto eh io dico ma è normale quella sei mesi è un grandissimo amore il nostro che siamo tra voi ci sono persone sposate da venti venticinque anni che dobbiamo dire allora ma non lo so dobbiamo andare a dar papa e facce dalla benedizione perché siamo santi parliamoci così vabbè allora cosa vi vi devo dire prima di lasciarvi perché siamo giunti alla fine della nostra ora sono volati lo so mi sembra però che insomma abbiamo parlato un po' di tutto ah di Damante ok devo dire due cose su Damante perché l'ho promesso l'ho promesso a una ragazza che mi schiede praticamente tutti i giorni voglio sapere cosa pensi di Damante ora non voglio essere offensiva lo sapete che io non sono mai offensiva però di Damante ho sempre detto è un bambino fondamentalmente è questo è un bambino soprattutto nel mostrare i suoi sentimenti ma più che mostrarli nel provarli è ancora piccolo di cervello secondo me e non sa veramente amare non sa stare con una donna sola non riesce io non lo so perché non lo voglio manco psicanalizzare perché per carità cioè non se ne può più non lo voglio manco insultare tra virgolette perché insomma voglio dire si insulta da solo per come si comporta perché basta vedere le sue storie la sua vita però è uno che insomma sta facendo la sua vita sta guadagnando facendo le cose che gli piacciono cioè guadagna pure bei soldi ha raggiunto quello che voleva ecco dove non l'ha raggiunto probabilmente è l'amore ma perché pensa molto più a se stesso che agli altri quindi quando sei così narcisista così un po' egoista non riesce a trovare l'amore perché quando ami devi mettere la persona che ami al primo posto nella tua vita non al secondo non al terzo e non al quarto lui non lo mette manca al decimo secondo la mia opinione ripeto quindi niente è un bambino proprio sentimentalmente parlando non mi va proprio di sparare sulla croce rossa mi dispiace per lui perché lui pensa di fare una bella vita ma quando non riesci a trovare l'amore quello vero all'età che c'è a lui 30 anni non è poco parlo di Damante 30 anni l'amore già avresti dovuto trovarlo pensare a farti una famiglia al futuro perché insomma l'amore è bello essere amati vivere la tua vita andare a dormire con la stessa persona tutte le notti avere piacere di averla accanto a te avere piacere che ti abbracci che ti riscaldi quando è inverno svegliarti con questa persona è la cosa più bella che ci sia in questa vita e quindi quando non ce l'hai per me sei tra virgolette un poveretto ma poveretto non in senso cattivo poveretto perché è brutto non avere qualcuno da amare che ti ami soprattutto quindi questo penso di lui mi dispiace molto per lui sono molto contenta per Giulia che pare abbia trovato il suo amore con Andrea Iannone che mi sembra una persona più con i piedi per terra anche se vive comunque in quel mondo però è uno che si fa sentire ed è presente nella tua vita ok e un uomo così è bello avercelo poi magari non dura io questo lo so oppure durerà all'infinito però sono molto contenta perché quando hai un uomo così che si fa sentire è bello vabbè ragazzi è finito ho 20 secondi per salutare quindi vi auguro una buona serata un bacione e prometto che ci sentiamo presto ok ciao ciao ciao